Grazie a tutti, sono l'Istituto Italiano di Cultura, io sono Davide Scalmani, sono il direttore e Tichana mi aiuta con la traduzione. Buongiorno, buongiorno, sono l'Istituto di Cultura, io sono Davide Scalmani, direttore e Tichana ci vi faccio anche breve. Sarò molto breve perché vedo che c'è molta eccitazione, alleria per questa mostra, siamo tutti veramente sorprensi dalle opere dei bambini. Comincio con fare i complimenti ai bambini e ai ragazzi e naturalmente a Viljana Denala, la sua scuola d'arte, è veramente un lavoro fantastico. Complimenti a tutti. Provi l'Ala da poco l'Istituto, a t'appoggi i Dina Dugena e i miei studio, zai sta, si mi grazie a suoi complimenti. Grazie. E dico solo una cosa, che mi capita, dal direttore dell'Istituto, di dover fare questi discorsi inaugurando delle mostre, cercando di spiegare il significato dell'arte, cercando di spiegare l'arte contemporanea. E lo scopo naturalmente è di far avvicinare le persone all'arte, di far capire l'importanza dell'arte nella società di oggi. Spesso ci dimentichiamo di questa parte della nostra attività intellettuale, emotiva, spirituale. L'arte fa parte di noi, ma ce ne dimentichiamo da adulti. Ma queste parole, che sto dicendo anche adesso, servono poco. L'arte bisogna far l'arte. Ecco perché è così importante questo lavoro oggi. E grazie per oggi, mi grazie per oggi, abbiamo fatto arte con Dina, da con la scuola di Gellar Arte, averanno l'arte. La capiscono meglio di noi che non la facciamo, la capiscono meglio di noi, e la averanno per tutta la vita. Questo è fondamentale. Questo è il vero risultato di oggi. Sve ovo što sam rekao, znači, zaista malo, zato što je bitno da se umetnost radi, da se ona stvara. I zato è to veoma važno. Deca su radila, deca su izradila sve ove radove, sve umetničke radove, zajedno sa Biljanom i sa njenim istupio. I ja zaista mislim da oni razumeju mnogo bolje od nas, koji u stvari ne radimo, ne stvaramo umetnost. Grazie, grazie a tutti. Hvala svima. Biljana. Dragi gosti, dobrodošli na izlužbu Dećih radova Centra za umetnosti i edukaciju. I svečanu dodaju diploma. Veliko mi je zadovoljstvo... Aču, grazie. Želim da se zahvalim prvo Italijanskom istitutsu za kubulu, koji nam je omogućio da u ovom divnom prostoru prikažemo dela naše kolekcije. To su dela dece, inspirisani kulturni i istorijskih spomenici u Italije i delima čuvenih italijanskih majstora. Nastali u našem ateljeu u proteknik nekoliko meseci, od januara do danas. Znači, za četiri meseca mi smo uradili cel projekat. Uživat ćete u crtežima, slikama, skulpturama, instalacijama i multimedijalnim radovima, realizovanim u različitim likovnim tehnikama. U protekle tri godine, oteđali smo preko 800 likovnih avionica, na kojima smo se družili, istraživali, eksperimentisali, razvijali vreštine, crtali, slikali, vajali i prolazili to sve likovne tehnike. Ponostli smo što smo deo odrastanja vaše dece. Kao i što pažujemo odabirom sadržaja i zadataka, utičemo na infobrazovanje, razvoj kreativnosti, formiranje pravih prednosti, pozitivnom odnosu i ljubavi prema umetnosti. I pre nego što pređemo na svečanu dodelu diploma, teletno da se zasavljamo svim svojim savjetnicima na predanom radu i osvarivanju ciljeva našeg ateljeva. Posebno bih se zahvaljela kompanijama koje su podržali organizaciju naše izložbe, a to su Alufix, Tipografik Plus, Rovnoj kući Leto i kompanije Rao. Zahvaljujući se svima na podržci, roditeljima, prijateljima, kao i deci koji su izradila sve ove djivne radove. Sada ćemo preći da ne bi dužila, jer je već kogu dovoljno topo, preći ćemo na svečanu dodelu diploma i ovdje ćemo krenuti od najmlađih, oni koji imaju četiri godine. Hvala! Hvala!